Arrestato dai finanzieri di Reggio Calabria, il presunto autore del tentato omicidio avvenuto nella città dello Stretto lo scorso 13 ottobre. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, l'uomo avrebbe sparato almeno quattro colpi di pistola nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. A trovare la vittima fu una pattuglia delle fiamme gialle impegnate in un servizio di controllo del territorio in pieno centro abitato nelle prime ore della mattina in una zona della città storicamente soggetta all'influenza e all'imposizione mafiosa. All'uomo immediatamente trasportato in ospedale venivano diagnosticati quattro ferite d'arma da fuoco, di cui una al capo e un'altra al volto. Il presunto omicidio è stato accusato per i reati di tentato omicidio aggravato in quanto reato connesso all'attività mafiosa, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.